Quante volte nella nostra vita facciamo qualcosa al solo scopo di apparire importante agli occhi degli altri? Ci dobbiamo per forza sentir dire quanto diversi, unici e speciali siamo in quello che facciamo. Il problema è che la continua spasmodica ricerca di una conferma esterna che ci ricordi quanto siamo in gamba, è un circolo senza uscita, una trappola, infatti non avrà mai fine, non sarà mai abbastanza e la nostra vita diventa un jukebox per cui a seconda del gettone che viene inserito quello che ci fa sentire importanti o quello che non ci fa sentire abbastanza noi reagiamo di conseguenza immediatamente l'impulso sulla base di note musicali arrabbiate oppure felici. Ma che cosa succederebbe se per una volta, una volta soltanto, smettessimo di cercare di essere speciali, ci ricordassimo che siamo abbastanza così come siamo e cominciassimo a spostare il focus dal ricevere attenzioni dagli altri al dare agli altri le attenzioni che meritano. Il nostro comportamento verso le altre persone cambierebbe, il modo in cui ci trattano le altre persone cambierebbe a sua volta e noi? Beh noi potremmo diventare miliardari. Jason Silva in uno dei suoi ultimi straordinari video ci ricorda come mai prima d'ora ci sia stata un'epoca in cui abbiamo a disposizione così tanti strumenti per raggiungere le persone che ci circondano e spostare l'attenzione da noi stessi agli altri. Un modo un po' alternativo di guardare la tecnologia grazie al quale si va a delineare una nuova definizione di miliardario il quale è colui che può influenzare positivamente la vita di un miliardo di persone e possiamo farlo tutti tutti quanti a partire da oggi e dal nostro piccolo perché con gli strumenti che abbiamo a disposizione ormai basta un click per trasformare una goccia in un'ondata inarrestabile. Ti lascio con una sola domanda oggi qual è una cosa che oggi stesso puoi fare per qualcuno senza aspettarti nulla in cambio soltanto per influenzare positivamente la sua vita. Condividilo subito nei commenti qui sotto il video è il momento di sperimentare qualcosa di inimmaginabile è il momento di sperimentare che cosa significa essere un vero miliardario. Ti è piaciuto questo video allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici e se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su cecilia sardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio un grandissimo abbraccio di luce non sei ancora parte della svolta school che cosa aspetti visita la svolta school.com e unisciti alla prima scuola in italia per la tua crescita personale